Hola, io sono Marco Scurano e signore e signori bentornati in my time at Porsche OMG, non vedevo l'ora di rigiocare a questo gioco, ci ho avuto poco tempo per dargli un occhio Ma è cresciuto un arbusto? Il mio è cresciuto, togli Togliti da qui, togli di qui Allora, terza puntata, abbiamo fatto un sacco di macchine per il crafting Questa qui, la sega, lo strizzatore di cervello Io sono andato un bel po' in miniera Abbiamo ascia e piccone di bronzo, quindi un ottimo upgrade E sta piovendo, quindi c'è anche il clima, guys Attenzione, perché c'è il clima importante Allora, facciamo subito qualche questina per migliorare il nostro tutte cose Non lo so come definirlo, sinceramente Andiamo a vedere le missioni Abbiamo il fixing the fence Uh, è vero, il fixing the fence Questo potrebbe essere importante, eh Potrebbe essere importante Abbiamo, infatti, ecco qui Le wooden board fatte con questo ciccio ciccio Però, 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 però Abbiamo anche il farmer La small planter box Che la desideravo da tanto, eh Quindi possiamo farla Ma adesso sto notando Che ci sono le armi Interessante Questa spada ha Delle Degli spikes D'accordo? Mentre questa qui vuole soltanto legno Quindi, ragazzi, in realtà possiamo farci In realtà pot- No, animal bone non ce l'ho Possiamo farci soltanto questa E io direi che me la faccio Paparapam Papam Andiamo a dare un'occhiata se effettivamente è meglio della mia racchetta La mia racchetta ha più 10 di attacco La spada ha più 18 Direi di sì Vediamo l'animazione se è interessante È sempre uno slash E poi, vabbè, abbiamo questa corsina qui Ora Delle cose, delle missioni dovremmo trovare Che è questa qui La small planter box Vogliamo il soil e le animal feci E guardate che ho scoperto che si può costumizzare la chest La possiamo cambiare di colore E questa cosa è molto, molto, molto interessante Quindi feci, animali, soil E... Let's go Abbiamo la planter box Oh, yes Confirm Perfetto C'abbiamo la questina fatta Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere Non ancora Dobbiamo harvestare i semi Quindi probabilmente dobbiamo posizionare Minchia È enorme sta cosa Quanto è grande, scusami Vabbè, la piantiamo qui Ah, vediamo Cioè, vedete qui è inciniblico Sì Old the seed Ok, tasto destro Poi posso dargli un nome? Ma che carino Va bene E posso metterci il fertilizer Che non ho Però vabbè, fa niente Allora, andiamo a vedere i seed I seed, i seed, i seed che ci ha dato Ecco, ora vatti a ricordare quali erano Ah, questo cresce in tre giorni Questo in cinque Vabbè, mettiamo questo Poi al massimo se ci sbagliamo Spero che sia quello Lo spero, lo spero, lo spero vivamente Ma proprio lo spero Tantissimo Perché altrimenti Andiamo a metterlo Metterlo qui Allora, sì, vai Oppela Perfetto Uh, ma ti segna tutto Puoi cercare lo status E poi no Non voglio distruggere Ok, perfetto Sono Incantato Davvero Dalla bellezza E della serenità Di questo gioco In cui c'è però anche il combattimento Perché Il tizio ci aveva avvisato Che dei mostri Sarebbero giunti E tra l'altro Io vi ricordo che di qui A parte queste Queste bestiacce qua C'erano dei mostri In qualche parte Cosa sono quei cosi Con l'ombrello Vi prego Voglio saperlo Minchia che tuoni Minchia Sono Unicorni di mare E posso picchiarli? Posso picchiarli? Droppano qualcosa? No, che bella l'elivazione Via Ok Sappiamo anche che dobbiamo schivare Aio Cazzo Ha fatto quattro danni No Poverini Non troppano niente Ma è bellissimo Che hanno Via Oh Via Liscio E voilà Ah no Ci ha dato le spine E la carne E qui? E qui Non abbiamo ancora il ponte Ciao Kikka Come stai? Ah no Sei Kikko Che paura Sì Salve Arrivederci Guys Posso uccidere anche le bestie Questo è qui Mi danno l'anana colorata Oh Oh Ahio Cazzo che botta Vieni qui Allora mi ha dato Worn for Meat E color for Ok Via Via Molto carino il combattimento Molto semplice Ottimo Abbiamo anche la carne Probabilmente posso mangiarla Non vedo niente Non vedo niente Non mi picchiare Ti prego No Sette danni Vabbè Ci abbiamo Effettivamente 300 punti finita Ma immagino che i mostri Quelli veri Siano un pochino Piuttosti di questi Fermi Mi sono scordato Che c'era Il fertilizer Ce l'aveva dato Giusto Non dobbiamo ne aspettare Andiamo a mettere Un po' di Fertilizer Vieni qui Vai Ok Ancora uno Ancora un altro E basta Posso No Posso Posso prenderlo Non ho capito Le passo mio marito Su riguardo al fertilizer In questa Giuse Giornata di pioggia Mi dirigo verso la Tree Farm Per vedere se mi danno Dei soldini Vai Sì Chi sei Che brutto Vabbè Soldi Soldi E Esperienza Ma posso entrarci No Ancora no Vabbè Forse deve Deve cambiare qualcosa Vediamo che dice Niente di che Sì ce ne mette Ok Uno più Ma che bene Le mongolfiere Ma posso andarci Guys Parla di un open world Oh ma qui chi è Non ho capito Le passo mio marito Qui c'è un'altra cosa Il ponte Secondo me Qui possiamo andarci Qui possiamo andarci In qualche maniera Un giorno Andrò ad esplorare Giuro Ma prima voglio fare Il pontogallo Perché mi preme Fare il pontogallo Posso uccidere Le galline No Posso urbarle Ragazzi La tizia Stop running around Put it back Ok Scusa Scusa Ah io me Me mena Scusa Scusa Non ti arrabbiare Me ne vado Guarda questa Allora diamo un occhietto Un occhietto bello A quello che possiamo A quello che dobbiamo fare Per il wooden bridge Ok Il wooden bridge head Eccolo qua Sì Buongiorno Copper pipe Per tre E hardwood planks Per cinque D'accordo Le hardwood planks Ne abbiamo Quattro Non ci voglio credere Gesù mi è totalmente Avverso oggi Ma non fa niente Perché basta Che andiamo qui Giusto E ne facciamo un'altra Sì Vai craft Ce ne fai soltanto una E ci mette due minutini Morbidi morbidi Mentre le pipe Dovrei averle fatte Fammi un po' una pipe Vediamo un po' Se sono stato bravo E diligente Non sono stato bravo E diligente Sono una persona Orribile invece Quindi mettiamo a fare Tre pipe Una Due tre Voilà Perfetto 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 E con questo Dovremmo avere tutto Yes Copper pipe Fermi tutti Non bronzo Cancel Yes Due due Per favore Come max Una soltanto Ah perché non c'è copper Ragazzotti Ho ricevuto un invito Alle 18 C'è Una festa in città È un giorno di vacanza Davvero Will to the present from Airship What the fuck C'è un airship Davvero Ma è bellissimo La gestione delle piante Mi lascia un po' perplesso Nel senso Diceva che È il secondo giorno su tre Ma Io ci ho messo il fertilizzante Allora il fertilizzante Scusate 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 A che cacchio serve Vediamo un po' Smelly compound Increase Yield of Scusate Ok Ma D'accordo Increase Cosa Apply Fertilizer Non posso farlo Non posso applicare Il mio Fertilizer Guadagniamo La pegliotta Con la quest Delle chest Non è tua Va bene Mi dispiace Amico caro Sei tu Yes Thank you Qualche soldino Molto bene Molto bene Andiamo a vedere Se c'è qualche altra cosa Un grado C Due fans E mi dà 400 Presa subito Presa subito Adesso dobbiamo guardare Come si fanno Fermi tutti Missions Eccola qua No Ventilatori What the fuck Ventilatori Io pensavo Oddio è vero Sono talmente abitato Di fans Ma io pensavo Le fence Non i fan Cazzo I fan Come si fanno i fan Ragazzi Dove corri Dimmi come si fanno i fan Ok se pensavo Di comprarmi qualcosa Perché questa meccanica Che ti aumenta la stamina È fantastica Il problema è che io C'ho C'ho Pochi soldi Vediamo se posso Vendere Ah Cioè posso venderli L'ha venduti Ok E poi devo uscire Oh Mi ha dato un po' di gold Allora Io in totale Ho 532 di gold E quindi Se mi comprassi Un sofà Per dirvi ragazzi Che mi dà 3 di stamina In più Perdo tutti i miei Sono povero Ci sentiamo Mi sento povero Cacchio Dove sono i mostri Che droppano E tu chi sei io Ehi Ah no Sembrava I capelli Sembravano invece Vabbè Ciao Va bene Ciao Ciao Arrivederci Guys ci siamo Andiamo a costruirlo Mamma mau Allora dobbiamo mettere queste Qui E qui Mamma mia che paura Ho detto Oh mio dio No che ne vuole il doppio E qui le tre pipe Wire Copper pipe Oh Oh yes Ce l'abbiamo E Immagino che io debba andare laggiù Ammettelo Ammazza come piove Andiamo qua giù Vediamo un po' No È stato difficilissimo Poi ho preso così tanta legna Per fare sto robo Salve Do mi picchi Mia piccola tortellina Ok Salve Mio punto interrogativo Oh mio dio No 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 Dai non mi puoi fare questo Ne vuole due Ne vuole due Salve Che brutto che sei Sei brutto Ne vuole due Non ci posso credere Non ci posso davvero Che bella la lumaca Cranchio Via È bellissima No ma solo Solo la carne mi ha dato Wait 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 Io alcuni arredi li posso fare Ho controllato i fan Non li posso fare Sono molto triste Quindi prendiamo la Questa Così poca stone Sono povero di stone No eccola qua Un po' di stone E del marmo D'accordo E andiamo a vedere Se posso fare Un tavolino Cos'è questo No No davvero no Bello questo Serve il cotone Possiamo farlo Craft Very good E una small chair Vuole il word fur E il wood Cazzo il wooden board Ma davvero Sul serio Sono Teatable Iron Io ancora non ho trovato L'iron Ok quindi Possiamo avere soltanto L'onore Ragazzi Di mettere il primo oggetto D'arredo Ed è questo Cagatore di tavolo Però va bene Dai Come funziona Oh ma qui c'è tutta la scheda Ok vediamo se posso Piazzarlo Ando Me par Vediamo 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 Sì l'ho visto Eccolo E vabbè Me lo metto qui Per adesso E quindi Dovremmo avere Un più set A stamina Non male Immagino che quando Compreremo casa nuova Casa più grande Queste cose Ci Ci aumenteranno I think Guys Ho letto soltanto adesso Sono uno stronzo Sono uno stronzo Gli dovevo dare un regalo E non gliel'ho dato Mettapino Perché ero troppo preso Dal crafting Mamma ti prego Cos'è? Un talismano Grazie Ero troppo preso Dal crafting Maledizione E qui c'è C'è un sacco di PR Da fare in questo gioco Caspita E niente Sono davvero Un pessimo vicino Sono davvero Un pessimo vicino Ma proprio pessimo Davvero terribile Che a parte che non saprei Che regalargli Se devo essere molto sincero Però qualcosa Dovevo regalargli Allora ragazzi Siamo Ci siamo Ci siamo Il momento è tropico Io magari sto facendo Una quest che magari Non è prevista Che faccia adesso Ma onestamente Ve lo dico fra me E voi Me ne sbatto il cacchio Bam E E si Che cosa vuoi adesso Broads plate Bam Si E qui vuoi Gli stone bricks Giusto Giusto Mi stavo sbagliando Mi stavo dimenticando Quindi Boom Boom Bomb E boom Signori Abemus Anche Questa parte Quindi Let's go E Voi la Bam Ce l'abbiamo Ce ne manca un pezzo Un pezzo solo E ci siamo Oh Olè Guys Tutto preparato Tutto acchittato Let's go Buttiamoci dentro questo E poi Ci servono le nostre Pipe Eccole Mamma mia Mamma mia MK Rasciatore MK Rasciatore Ce la fa Ce la fa E costruisce il ponte Sullo stretto di Messina Dove stiamo Di qua Per Messico Mamma mia E' stato un rasciore Incredibile Io devo dimettere Che forse Non mi sarei dovuto Perdere alcuni momenti Della vita Della città Ma sono sicuro Che ci ripagherà Questo ponte Laggiù Già vedo un cristallo Non vedo l'ora Di andare Olè Signori Il ponte E' finito Andiamo a prendere Sto cristallo Subito Che sei No Mi serve un piccone Migliore Cacchio Allora ragazzotti Io direi Di prenderci La ricompensa Uh Uh Fermi tutti Fermi tutti Forse Forse facciamo in tempo Gli diamo Gli diamo un talismano Vai Olè Olè Forse ce l'abbiamo fatta Ok Non ho capito niente Davvero niente Di quello che ha detto Però sono contento Che ci siamo riusciti A fare questa cosa Perché adesso Non ce l'avremo Con Cioè lui non ce l'avrà Con me E E Penso ci sarà un evento Probabilmente Ma è venuto il momento Let's go Non vedo l'ora Da quando ha iniziato Dove sta Antoine Antoine Dammi Tutto il merito Che è merito Com'è Excellent World E basta 1800 soldi Uh 1800 soldi Uh Presley Dimmi che sono bravo Però non mi dici niente Presley Davvero guarda Ti prendo a cazzotti Se non fai bravo Ragazzi Ragazzi Allora Nuova zona Nuova zona Davvero davvero Molto molto interessante Presto nuovi crafting Io direi che la prossima puntata Ce l'andiamo in giro Per il mondo Ad esplorare Un pochettino E È una libidine Sto gioco Cioè non so Come mai Ma c'ha A parte che Ha piovuto sempre Durante questa puntata Ma è Davvero Davvero Bello Uh Sta anche crescendo È cresciuto Check the stand Non capirò Questo sistema davvero Mi sfugge Ancora Ragazzi Alla prossima puntata Bella per voi Alla prossima puntata